ci possiamo divertire che ne pensi che ci divertiremo e conto in una possibilità è una possibile vittoria del napoli sono ottimista come da sempre lo sono e quindi io dico che il napoli vincerà di misura 1 a 0 qualcosa di più della gloria una speranza folle eppure esiste contro ogni probabilità possiamo farcela possiamo vincere ciao ragazzi e benvenuti sul mio canale il canale di mister pitt all'indomani dello scontro juve napoli siamo qui a commentare la partitissima napoli abbattuto la juve 1 a 0 con un gol al novantesimo il nostro k2 più da lì cross di caglie con una stoccata di testa il nostro grandissimo difensore i pronostici dell'anteprima dei miei amici sono stati praticamente perfetti ci divertiremo e l'uno a 0 sono stati precisi calma calma mister pitt calma mister pitt io che cosa ti ho detto una quindicina di giorni fa che cosa ti ho detto la juve e alla frutta la juve sulle gambe te l'ho detto devi dire la verità ma ti faccio vedere la juve perde pure a milano con l'inter sabato sera la juve è cotta se il napoli vince a firenze il napoli ha vinto il campionato la juve tiene ancora le trasferte di milano e le trasferte di roma la juve è cotta pino se non facciamo cazzate siamo campioni d'italia mister pitt mister pitt moce la mamma magna moce la mamma magna a firenze dobbiamo andare a vincere e sabato sera forza inter siamo grandi siamo grandi non molliamo mai non molliamo mai maurizio sarri maurizio sarri ieri con gli amici che il gruppo i love mountain bike che saluto abbiamo scalato il vesuvio è stato proprio momento bellissimo e ho voluto fare questa scalata proprio perché mercoledì alla partita napoli udinese ho percepito qualche sensazione particolare dopo il secondo gol dell'utilizzo e quindi ho voluto fare questa scalata proprio per come auspicio per la partita della sera a torino ed è andata bene ragazzi però non è finita qui non è finita qui mancano quattro giornate e per la juve a due scontri fuori casa con l'intero e roma noi possiamo solo vincerle tutte e aspettare il risultato di bianconino questo non terò il video per gli amici di i love mountain bike della rossa scalata seguitemi un saluto da sempre il nostro motto gli uomini di sarri non mollano mai è o o o o o o o o Oh!